Lui riusciva a celebrare messa in carcere, il problema è che celebrando da solo al buio lo vedevano un po' dall'esterno della cella parlare da solo, lo prendevano un po' per pazzo e quindi decisero come atto di clemenza di non ucciderlo. È scampato alla pena di morte del regime comunista albanese che si autoproclamò il primo stato ateo al mondo, passò al plotone di esecuzione tutti i suoi superiori dell'ordine francescano. La vigilia di Natale del 1963 a casa di quello che oggi è il cardinale Ernest Simoni, arrivarono quattro poliziotti e lo arrestarono come nemico del popolo perché aveva predicato di avere fede e di amarsi l'uno con l'altro. Sono stati 27 anni, quindi è stato un periodo lungo, doveva essere in realtà una condanna a morte come era stato per gli altri francescani, i suoi superiori. Però anni duri, anni difficili perché tutto è nato dal fatto che lui predicasse la conversione, la speranza, la fede in Gesù Cristo e il precetto dell'amore. La liberazione nel 1991 e nel 2014, l'incontro con Papa Francesco, due anni dopo, la nomina cardinale. Una testimonianza così forte, così incisiva e così eroica è di grande stimolo per tutti i cristiani di oggi perché essere cristiani cattolici, praticare la nostra fede in questa Europa così scristianizzata è diventato veramente eroico. Anche per tanti giovani che per un semplice crucifisso al collo, magari a scuola, vengono letteralmente fatti oggetto di bullismo, messi da parte e tante volte noi che lavoriamo con i giovani ci viene riferito da ragazzi stessi come vengano emarginati perché magari gli scappa detto che vanno a messa la domenica. Quindi avere una testimonianza così forte da una persona che ha maturato, non soltanto l'età anagrafica, ma veramente l'amore per la Chiesa e per Gesù è molto importante perché per tutti oggi vivere la propria fede cristiana e cattolica è diventato qualcosa di eroico. Una storia la sua che sarà ripercorsa al Santuario delle Vertighe di Monte San Zavino sabato 1 settembre. Alle 18 la Santa Messa, alle 21 l'incontro con i fedeli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.